cecilia ignazio si allenano a fare i genitori no scherziamo fanno i bravi sì e oggi luna cerca il lupo cattivo dov'è l'orso nel bosco dove il bosco lupo cattivo ma nino il nino è lupo cattivo il nino è lupo cattivo no no potete fargli una carezza a ragione luna il lupo cattivo sta nel bosco ma lei sta tranquilla tanto sta con zia cecilia bella luna divertiti con gli zii